Ciao ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati su MucchioDV, io sono VGFuture, siamo in un'altra puntata di Red Dead Redemption la scorsa puntata abbiamo visto John che arriva nella sua nuova proprietà, quella che ha potuto comprare grazie alla banca perché la banca gli ha fatto il prestito, ma prima di fare la prima missione, come di consueto, facciamo i saluti allora salutiamo Alessandro, salutiamo Fortunato, Stefano, De Ugi, L'Ultimo Impero, Spaventapasseri, colui che crede nella causa così si chiama il nome e tutto quanto, Floriana, De Ugi, poi ancora c'è Ruggero, ITZ Empire poi ancora abbiamo NivecTube99, Roby Jaming e poi ancora abbiamo Riccardo Moschetta ok, madonna quanti commenti, tra cui Ruggero mi ha detto di, Riccardo mi ha detto di salutarlo, ecco fatto comunque ragazzi cominciamo subito questa prima missione, vi faccio vedere dov'è che sta come al solito eccolo qua, ci sta Zio che sta vicino proprio alla casa, che poi me lo dà come accampamento appunto di Beecher Zio che cosa dice? Zio è un amico su cui puntare, Zio ha delle informazioni per te che cosa ci vorrà mai dire Zio? Andiamolo a scoprire insieme questo luogo completamente arso dal calore è praticamente vuoto, così sarà un bel po' da lavorare vediamo, vediamo Zio che cosa dice, intanto ho visto, l'ho visto apparire e scomparire in lontananza non lo so, poi mettete, magari mettete pause e ci date un'occhiata che cosa sta succedendo qua? Io l'ho visto in piedi quella figura ma invece sta dormendo lavorare? è la lombega ora, se io overdo l'ho, l'ho avuto, l'ho avuto, l'ho avuto, l'ho avuto è molto serio get up, o get out tu puoi essere così testi cosa è? constipazione? guess you're my proof I'll never quite outrun my sins you got so sanctimonious in your old age no wonder she left you, it's like rooming with the King James Bible get up! I'm getting up oh no, what did I have to tell you? I went into town oh, I got a little drunk oh shit! well, we gotta go we gotta go to Saint Denis Charles! Charles Smith is alive, I reckon Charles Smith alive? really? I reckon unless I dreamed it all and by the sound of it not doing too good neither ha, here we are come on, let's get off alright ah, back in Saint Denis I never liked this place yeah, me neither all right it's gold vine it's gold vine it's gold vine sure let's split up we could find it I'll take the saloons and you take the slums ah, how about I take the saloons and you take the slums chiedi a Charles al saloon o al recettatore and we'll see come faceva comodo the cavall let's get off ah no, it's not il cavallo attenzione il cavallo è venuto benissimo così che brutta città a me non mi piace proprio ragazzi tutta grigia piena di umidità piena di fabbriche di puligine schifezze varie eppure con un livello di criminalità niente male allora scendiamo dopo che c'è stata sta scivolata del cavallo bug ovviamente allora vediamo buonjour how can i help you today sir listen you seen a big indian fella ah indian yeah a boxer no sorry mister no actually yes he i think he's fighting i but even fighting out behind sensazione in thank you thanks a lot no problem va bene ma dobbiamo andarlo a beccare insomma si sta si sta picchiando di santa ragione qua non c'è nulla pare che qua durante la storia durante la storia c'era tipo una bisca clandestina dove le persone si pestavano non vorrei sbagliarmi allora vediamo un po che il segnalino dove porta e dov'è che sta a eccola qua destinazione sta qua vicino usciamo da questo gabbie di matti tutti scontrosi in questa città tutti scontrosi chissà come si chiama il cavallo di john non ci ho fatto caso ok oh good lord i was just beginning to enjoy some peace and quiet che bestia che bestia che bestia che stai fatto e che stai facendo non so 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 Mi pensavo che ero morto. Certo. Abigail è ancora vivo, ma... ...ma che mi ha lasciato. Excuse me. Mi voglio fare un betto. On chi? On... ...myself. To win. Lone Wolf. How much? All of this. Ok. Funny thing... ...I pegged you for the favorite, ...but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. Let's go meet you so, Charles. Sure, I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat for you? An epic battle between the descendant of ancient warriors ...and a not-so-noble savage. On my left, a ferocious battler from the valleys, ...Simon of Wales. And on my right, an Indian Hercules. The savage. The untamable. The unbeaten. And dare I say unbeatable. Lone Wolf. You know how this works? No weapons. No forfeiting. No crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout. You win by retirement. Or you win by death. Let's have a good fight, boys. Let's keep it clean. But not so clean. Yes, sir! No. This is not even the right word. I was even the right word. The room was in the door. So, we'll be waiting for it. There's nothing to do on your feet, you hear? Get him, Charles! What is that? Pretend he's Micah. Or something. Knock him out! No. No! L'ha distrutto! L'ha distrutto! We just have a few urns a room. You're useless! I am a deep thinker! Be quick! Come on. This way. My bag's on the dockside. So... what happened? You mean back then? Arthur helped me get out... gave me a chance to... live, I guess. Y-you know that Arthur... D'accordo. Word mi è arrivato al nord, quindi mi sono andato a lui in Miss Grimshaw. Mi ha dovuto andare. Se qualcuno ci trovavamo, ci saremmo... Oh, ovviamente. Entendo. C'è l'altro che voleva essere. Un'altra ponte, face in the evening sun. Mi ha dato un satchel, e alcune delle cose sulle. Ricorda quel giornale che ha sempre scrivuto? C'è l'altro. C'è un po' un draftsmano di oggi. C'era un buon uomo. C'è un buon uomo. C'è un po' di noi che potrebbe essere. L'arrivo come questo ha bisogno di rattere un uomo. Rattere un uomo, o fare un tipo di compagno, di quello che c'era la vita. C'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. In ogni modo, ho sento che tutti tu eri morti. o che potrebbe essere venuto. E io, lo stesso per te. Ducca? Chi lo sai. Morto? Potremmo? Non mi sono. Ho sentito di tutte le cose, ma... Una cosa che ho saputo, è che non è qui qui. Non ho sentito di nulla in anni, da... ... 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 Sì, spero che questo ragazzo è morto. Vedi che era quello che dicevano a quelli degli agenti. Cosa? Sto mettendo a noi tutto il tempo. Oltre che prima che ho scelto Sissica... Ci hanno scelto Strauss. Gli agenti. Non erano davvero messi. Mi sento che moro in giustizia. Non ho mai detto una cosa. Credo che alcuni ragazzi è più forte in mani che non puoi vedere. Tutto che succedono. Tutti i morti. Micah? Non ci siamo inocenti in questo. Dice, la prima di tutto. Ma non credo che ci dovessi fare quelle chiamate. Tutto questo scopo, se fosse... Ok. Uh, guarda. Cosa? Cuore. Cosa? Ci sono gli uomini di Guido Martelli. Chi? Il... Il... Il lavoro per Angelo Bronti. Solo ci sono qui un'ora. Ok. Ahia! Madonna! Dai andiamo giù! Come on, John! I'll drive. Hiya! Ok. Where was uncle gonna meet us? Over the bridge going out of town. West. Hold on. You see any law? Not yet. Keep your eye out. Sand and knee ain't short on police. I'll remember that. Only too well. Anyone? Good so far. Where did we get from those gunshots? The better chance we have. Of denying it at least. No. We can't get caught. Mattelli has a police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No. I don't want that either. You see anything? I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate San Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple. John! Charles! You boys been off getting up to no good? Kind of. Been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. I'm sorry. I didn't say anything. I was going to let you out. Call me a beer. They apologize. Give him an offer. Trust me. Go. 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 missione completata un amico su cui contare non ho letto bene comunque mi ha dato l'argento insomma qua ci sta un altro accampamento ma dove siamo? si siamo sempre nella stessa zona bichero ci sta pure il carro qua ci sta un accampamento provvisorio quindi Charles mo si unita alla combricola vediamo ci stanno altre due missioni vediamo allora c'è quella dello zio e l'altra qual è che ne ho visto un'altra possibile che sia così lontana visto io male no ce n'è una blackwater appunto e poi sta un'altra fa vede questa blackwater qual è con sedia adler addirittura un'onesta giornata di lavoro sedi ti ha dato di un'onesta giornata di lavoro sedi ti ha detto di vedervi a blackwater invece l'altra con zio bricolage per principianti zio ha bisogno di parlarti va bene facciamoci bricolage per principianti questa qua missione che abbiamo fatto è stata assolutamente filmata non abbiamo fatto praticamente nulla vediamo se qua c'è qualcosa in più da fare ah feels like old times it's good to have the old gang back together again let's just hope things don't turn out like last time there he goes what i tell you Charles boy is as sour as weak old milk no wonder she didn't stay with you not even a retired two dollar whore would stay with you that's the goddamn truth now you used to be decent company but now you're worse than a snake with a toothache all he does is whine 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 excuse me oh don't get all angry it ain't gonna change nothing you're hopeless and i mean that literally you got no hope i mean look at you look at this place your dream home i've had better nightmares than this dream oh darling abigail i've changed come live with me in an outhouse i wouldn't ask my worst enemy to take a shit in what are you trying to say it's awful it's a dump the house it's gotta go get some self-respect you miserable sack of shit build a house a lady set foot in place just needs a woman's touch it needs leveling no woman would touch this place now i reckon these horses can have it down in a minute here come on tie that end around the horses you loop that end around there horses will pull it clean down we good i think so all right well let's get going now just pull you got this john tira le redini what do you do do to Expand youritis see a pretty good see i told you wouldn't be no trouble now we head into town by ourselves a house Sì, da un bambino, come se fosse un bicicletto. Cosa in stanza? C'è un uomo nella strada di treno. C'è un uomo di caccia e timbre. Ok, stai lavorando qui. Ma se non vengo con te, chi ti dirà? Ho bisogno di un po' di pazienza e di quieto da tua incessione. Chiapete! Charles, lo faccia lavorare. Lo ripete se lo hai bisogno. Buongiorno, pure questo è una data del bronzo. Ma sono proprio una schiappa. Vabbè. Allora, ho completato questa missione. Ci sarebbe quella là di... Questa era proprio una cavolata, questa missione. Questa qua con sedia Adler, ragazzi, la facciamo la prossima volta, se no questo video dura un pochino troppo. Quindi questo era tutto. Noi ci vediamo alla prossima volta. Bang!